E allora tutto pronto, la regia ci ha dato l'ok, amici benvenuti, questa è Canale 2, c'è intanto tanti auguri di buon anno, ci auguriamo che questo 2024 sia migliore del 2023 sotto ogni punto di vista insomma e quindi cercate di migliorare e prima di tutto migliorarci. E allora parliamo di quello che c'è dietro l'angolo, sapete che c'è l'epifania, fra qualche giorno siamo ancora in periodo di festività natalizie e parliamo di un evento che ha avuto un grandissimo successo nella vicina Gravina, parliamo di Gravine Nativitas, questa sorta chiamiamola così di presepe vivente che ha davvero catturato l'attenzione di tantissimi visitatori. Quindi due i weekend in programma, il primo era quello nel weekend dell'Immacolata, il prossimo è imminente venerdì 5 e sabato 6 di gennaio. Ne parliamo con gli ospiti che sono qui con me in studio, il presidente di Gravine Nativitas, Domingo Mastromatteo, grazie. Buongiorno, buongiorno a voi. E il vicepresidente Luigi Lollisci. Buongiorno e tanti auguri di buon anno. Allora, questo Gravine Nativitas ha dato, era forse la ciliegina che mancava a Gravina per imprimere anche quella che è la sua personalità e la sua vocazione, sei d'accordo? Sono d'accordissimo, naturalmente un ben ritrovato a tutti coloro che ci seguono. Sì, si attendeva tanto un evento che potesse calamitare soprattutto molta gente nel nucleo antico, nella città di Gravina. È solo la seconda edizione del Gravine Nativitas, però i consensi piovono oltre anche lo steccato dei confini locali. Quindi, tradotto i numeri, abbiamo, come dicevi, già portato a casa i due giorni del primo weekend, quindi l'8 e il 9 dicembre, e sono arrivato oltre 20.000 persone in soli due giorni, di cui, insomma, la fetta più grande è proveniente da fuori Gravina. Molta gente dalla vicina Altamura, ma dalla stessa Matera, dalla provincia di Bari. Significa che, insomma, è stato costruito un buon prodotto. D'altronde, la presenza di 200 figuranti, tutto allestito nella zona, nel cuore nevralgico della città, il rione medievale Fondovito. La collaborazione con diverse associazioni, perché non dimentichiamo, questa seconda edizione del Presepe Vivente includeva anche la riproposizione degli antichi mestieri, e quindi abbiamo ricreato quelle che erano le antiche botteghe, che sono state anche, insomma, molto apprezzate. Pertanto, la collaborazione tra la nostra associazione e l'amministrazione comunale, ma soprattutto l'apertura alle associazioni del territorio, ha fatto sì che oltre 20.000 persone, nel solo weekend, appunto, dell'8 e del 9 dicembre, venissero a Gravina e apprezzassero questo evento, ci fa molto piacere. E, come dicevi tu, Felice, sicuramente lo pone il Gravina Nativitas come evento cardine nella programmazione annuale di un'amministrazione. Certo, certo. Allora, noi prendiamo più come data quella dell'epifania, diciamo, perché magari è un giorno festivo e ci spostiamo, però quello che consigliamo, adesso ce lo spiegherà il Vice Presidente Luigi Lollici, è di prendere parte a Gravina Nativitas già a partire dal pomeriggio del 5, quindi dalla vigilia dell'epifania, perché ci sarà un bel... C'è una ricca programmazione già dal 5 gennaio, a partire già dalle 17 abbiamo un grande corteo dei Magi che attraverserà tutta la città, proprio perché Gravina Nativitas è un evento che coinvolge tutta la città. Partendo da Piazza Stazione attraverseranno tutto il corso per arrivare poi al centro, come ha detto il Presidente nevralgico di questo presie per Gravina Nativitas. A seguire, oltre ovviamente all'apertura, che in questa occasione del 5 è posticipata alle 18.30, proprio per dare spazio a tutti i cittadini di poter visitare e assistere a questo corteo dei Magi, abbiamo anche altri eventi che arricchiranno questo programma, abbiamo l'evento in Basilica con Cattedrale, anche qui una seconda edizione del concorso dei presi epidomestici. Questo concorso ha visto la partecipazione di tutte le parrocchie della città e anche delle scuole elementari. Abbiamo avuto una ricca partecipazione con oltre 60 candidature e ci sarà in Basilica con Cattedrale una premiazione alla presenza sia del Sindaco sia del Vescovo, che ormai è prossimo anche ai saluti. Poi, sempre in Basilica con Cattedrale, avremo un concerto, un concerto musicale dell'orchestra Emilio Silvestri e in Piazza Notar Domenico avremo anche qui un concerto a cura dell'Accademia Musicale Gravinese. Quindi ricchi eventi perché la gente, oltre a visitare il rione Fondovito nel cuore di questo presepe, avrà a disposizione altri luoghi del centro storico e poter godere di questi due giorni anche per terminare queste festività natalizie. Quindi vi aspettiamo. No, no, è importante mettere in evidenza questo passaggio perché altrimenti molti si spostano tutti sul giorno dell'Epifania, che per carità è un giorno clou anche della festa, però sarà quello, diciamo, un po' celebrativo finale. Vi aspettate quindi anche in questo weekend, almeno le previsioni mettono, un po' le temperature scenderanno, però dicono che siamo tranquilli. Beh, sì, ci aspettiamo ancora gente, anche perché abbiamo diverse prenotazioni, ci sono turisti che approfittano appunto dei giorni di festa per visitare il territorio e naturalmente per poter visitare al tempo stesso il presepe vivente. A loro viene poi consegnato naturalmente un pass con un ingresso prioritario, il che permette loro di naturalmente visitare in maniera prioritaria il presepe e poi far ritorno nelle loro rispettive città. Ci aspettiamo tanta gente, il giorno 6 è riservato unicamente alla visita del presepe, senza, diciamo, eventi collaterali. Cominciate dalla mattina, il 6? Partiamo sempre però dal pomeriggio. Ah, dal pomeriggio. Nella fattispecie, dal giorno 6. Lo diciamo per chi ci segue così. Esatto, esatto. Insomma, noi, ecco, rinvitiamo nuovamente la gente a visitare, accogliere quello stupore che io poi ho visto nei volti della gente, ho accompagnato personalmente degli amici d'Altamura, da Bari, e leggevo proprio nei loro occhi la meraviglia, la magnificenza di questo evento, perché portare così tanta gente in un luogo sicuramente anche stretto, perché è legato chiaramente a un rione che veniva vissuto nel corso del 6-700, ha dato, insomma, tanto stupore. Per intenderci, la chiesa, o meglio, scusami, la grotta della natività, diciamo, come dire, la scena clou del presepe, è ricreata in una cavità di quella, appunto, rupestre tipica di gravina, per intenderci, accanto alla chiesa rupestre di San Michele delle Grotte. Per il visitatore è un viaggio che un po' ricorda, l'abbiamo detto anche un po' l'altra volta, la vecchia Bethlehem. Beh, noi, diciamo, io ho vissuto la mia infanzia a Matera, queste cose ci sembrano agli occhi un po' cose banali, ma per chi non le ha mai viste è veramente una riproduzione reale, perché effettivamente magari c'è un fascino che noi non riusciamo a percepire, perché le vediamo tutti i giorni, queste grotte, queste cavità, ma certamente chi viene da un mondo diverso rimane stupefatto, perché poi la grotta di San Michele è bellissima, è un angolo molto suggestivo, come del resto tutto il percorso che si presta bene. Io non sono riuscito a venire all'Immacolata perché ero fuori, però in questo fine settimana verrò a vedere questa seconda edizione di Gravina e Nativitas. Quindi la domenica abbiamo il giorno dell'Epifania, che è sabato, dal pomeriggio, esatto, fino alle 22.30, la possibilità appunto di vedere il presepe vivente, Rione Fondovito, ma anche le botteghe storiche, come dicevamo prima, degli antichi mestieri, quindi questo sarà possibile a partire dalle 17.30. Noi abbiamo anche poi allestito dei piccoli chioschetti, dei banchetti, in cui effettuiamo anche la vendita come autofinanziamento della stessa associazione di delle carte celebrative, griffate e gravine Nativitas, che possono anche essere un ricordo per il turista stesso. Certo, certo, no, no, certamente la prima edizione di solito quando si fa qualcosa è un esperimento e poi all'esperimento si decide se andare avanti. La seconda è già qualcosa di più, ma la terza, dicono, terza e quarta sono sempre le più belle, quindi dovete trovare anche, diciamo, gli spunti per migliorare. Sì, sì, noi abbiamo comunque una bella squadra che lavora a questo presepe e davvero l'impegno è quotidiano, parte da mesi prima e ovviamente daremo anche il massimo per far sì che la terza sia anche meglio della seconda. Ah, questo è automatico, è automatico. La partecipazione della città è stata positiva, ecco, per quella che è una prima analisi dell'evento del weekend dell'Immacolata, insomma, la città ha collaborato. Ha collaborato la città con tutte le associazioni anche presenti nel territorio, oltre a tanti volontari. Ovviamente i primi protagonisti di questa associazione sono le associazioni Corteo Monforte e Passio Cristi, che sono davvero, mettono a disposizione gente e vestiti per anche allestire tutte le scene e poi tanti volontari, tanti giovani anche, ragazzi delle varie scuole che si mettono in gioco tutti per dare a Gravina questo Natale da, diciamo, indimenticabile, proprio perché Gravina merita, merita questo successo che sta avendo in tutto il territorio murgiano. Quindi è una bella soddisfazione per tutti noi. Beh, no, no, di questo sono pienamente d'accordo. Dispiace che i media, diciamo, un po' più importanti mettano un po' in secondo piano questa roba che il territorio murgiano produce, perché mi sembra che la RAI non sia venuto, viene solo quando ci sono notizie brutte di cronaca da queste parti, tutto il resto si dimentica. Sì, sicuramente, ecco, torniamo un po' al nostro anche lavoro, ci impegneremo anche di più per far conoscere questo evento che è veramente un bel evento, ricordiamo a tutti, insomma, di poter visitare e merita, ecco, un respiro sicuramente nazionale, ma ce la faremo. No, no, per carità, è una piccola osservazione che, ahimè, lo notiamo anche qui con altri eventi importanti che catturano turisti da tutto il mondo ma stranamente gli organi di informazione nazionali vanno dietro le notizie di cronaca. Allora, tornando al discorso, 150 figuranti dal vivo, ci sono nella grotta, c'è anche l'animale, le cose, avete avuto problemi, no? Il veterinario, le visite... No, è stato un lavoro immane e lo sarà ancora, però ecco, lo stupore di cui si diceva prima, anche negli occhi di un bambino, di un ragazzino, di vedere tanti animali, al di là della grotta e della natività, che poi servono anche da corredo per ovviamente dare un po' di allegria, soprattutto nei più piccoli. Però è tutto frutto della collaborazione. Grazie alla collaborazione siamo riusciti ad ottenere anche la presenza di diversi animali ed è stato un bel colpo d'occhio aver loro anche, oltre naturalmente a figuranti anche di professione, perché poi sono venuti da fuori, immagino per esempio la legge romana, quindi con questi abiti e queste armature che hanno fatto la loro scena. I centurioni che hanno ricreato poi anche lo stesso accampamento, insomma molto bello, ma anche i figuranti delle due associazioni che ci aiutano, che sono state citate dal vicepresidente, hanno creato tante scene che hanno calamitato l'attenzione, ad esempio anche la camera di Erode, per esempio di questo regnante con tanto di balli per aglietare appunto lo stesso governante, ma anche la ricreazione di una sinagoga. Questo ha acceso davvero l'attenzione dei visitatori, perché ricreare un ambiente sacro, ebraico, con le tavole della legge, con i piccoli ragazzini che scrivevano su delle tavolette, è stato molto apprezzato. C'è un lavoro enorme, volevi aggiungere altro? Sì, il rione Fondovito permette e si presta a queste scene, perché abbiamo uno scenario che, come ha detto lei prima, anche gli stessi visitatori di fuori apprezzano, ammirano, quindi questo possiamo dire che è un set a cielo aperto, perché abbiamo tante zone che permettono di far godere al visitatore questo scenario incredibile. Potevo farla al Presidente, ma penso che il Vice Presidente possa rispondermi, visto che adesso stava parlando lui. L'amministrazione comunale ha avuto un ruolo determinante, importante, anche in termini di collaborazione? Sì, l'amministrazione comunale è al nostro fianco, ci sostiene in tutte le nostre iniziative, anche nelle iniziative correlate, come abbiamo detto, il concorso e tutti gli altri eventi. Quindi è una bella risposta di un'amministrazione che cammina accanto alle associazioni del territorio. Possiamo davvero dire grazie al Sindaco, al Dottor Fedele Lagreca e a tutta la Giunta, in modo particolare anche all'assessore Marenza Schenco, che è l'assessore proprio degli antichi mestieri e delle attività produttive. Quindi un grazie doveroso a tutta l'amministrazione. anche perché poi questa roba degli antichi mestieri è una cosa che andrebbe tutelata, perché ci sono dei mestieri che sono davvero in via di estinzione, a parte quelli già estinti, ma ce n'è altri che man mano che passa il tempo, ahimè, non hanno continuità e spariscono. Va bene, e allora cosa dire? Noi vi invitiamo a prendere parte a questa seconda data di Gravina e Nativitas, a Gravina in Puglia, il 5 e il 6 di gennaio. Ribadiamo il concetto, insomma, gli eventi cominciano già dal pomeriggio del 5, giusto Presidente? Dal giorno 5 alle 17 abbiamo il corteo, il gran corteo con l'adorazione dei magi. Come è stato detto, sfilerà a lungo tutto il corso Aldomoro per giungere alla fine a Piazza Notar Domenico, il punto di inizio del presepe vivente. Sfilerà quindi per un'arteria principale della città, la gente lo può seguire stando naturalmente ai bordi della strada e poi arrivare appunto nel luogo per visitare il presepe vivente. Ok, questo lo ribadiamo il concetto perché altrimenti poi tutti spostano magari la visita al giorno 6, il giorno del Pifania, e magari perdono una serie di eventi, anche perché poi c'è un weekend lungo, ma presumo che anche i B&B, gli alberghi, insomma, nel territorio stiano già lavorando. La risposta è stata ottima per il weekend dell'8 e del 9 dicembre. La città era sold out, anzi, proprio i gestori ci hanno ringraziato per aver creato questo evento e per averlo comunicato anche all'esterno. Stessa cosa si aspetta per questo altro weekend, insomma, la collaborazione vince sempre. No, ma ti devo essere sincero, anche Altamura di riflesso, nelle date in cui c'è qualche evento importante a Gravina o a Matera, Altamura di riflesso, con le sue strutture ricettive, ha parecchi, diciamo, pernottamenti in più, perché poi la gente si sposta nel territorio, se non trova lì, va al primo paese vicino, insomma, trova Altamura 10 km, oltre poi Altamura e Gravina sono veramente… Se in Matera Altamura si dice sono una fumata di sigaretta, Altamura e Gravina nemmeno fai in tempo a preparare la sigaretta, perché siamo veramente uniti, poi questo, insomma, è un territorio che ha tanto in comune, al di là di quello sfottò campanilistico che è sempre esistito, però le persone intelligenti sanno che il rapporto fra Altamura e Gravina è un rapporto davvero bello, anche perché poi, diciamo, abbiamo mischiato anche le razze, ci sono tantissimi matrimoni Sì, fra Altamurani e Gravinesi e quindi, diciamo, siamo davvero un tutt'uno. Allora, Vicepresidente, ti cedo la parola per chiudere, visto che aveva cominciato lui… Sì, noi vi aspettiamo, vi aspettiamo il 5 e il 6 gennaio e come è stato ampiamente detto, non è una riproduzione dell'8 e il 9 dicembre, abbiamo degli eventi che arricchiranno il programma, quindi sarà davvero un'occasione per tutti i gravinesi e i forestieri poter partecipare a Gravine Nativitas, vi aspettiamo e ancora auguri di buon anno a tutti voi. Bene, è tutto anche per questa puntata di Canale 2C, noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi, vi diamo appuntamento al lunedì, anzi no, siamo ancora a metà, abbiamo perso il calcolo, noi ci vediamo, c'è domani che è giovedì, poi c'è anche venerdì di mezzo e quindi siamo tutti i giorni qui sul 90 del Digitale Terrestre in Puglia e un grazie a tutti, ci vediamo alla prossima puntata.